Sì, sì. Benvenuti amici del canale di Rinconcitos del Lagos de Moreno, qui presentandoli la boda di mio figlio César. E guarda questo árbol di tecojote che si usa per le ponche ora in Diciembre, qui nel giardino del profe Leonardo. E guarda questo è pieno di frutti e per che la conoscano a molta gente che sape di tecojote, però guarda questo è pieno di frutti. Questo è da qui in... ... 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